Grazie E' un bel giallo e' un bel giallo E' un bel giallo Buona battaglia Buona battaglia con Jonny Si, buona divertenza A la fine Noi, non possiamo essere insieme Ma... ...ma così In questo nero E' un'altra parte E' un'altra parte Palazzo, ero prima Andiamo a un'altra parte E' un'altra parte 10 secondes Ok, siamo qui con i top 3 in race 1, Karls Scherker in 3rd place per l'Hansgrid Tenkari Honda Team Karls, tu non eras la prima Honda on the grid ma tu eras la prima Honda per finire la race Sì, sappiamo che è difficile in turn 1 In realtà in race 1 e spero che tutti stai bene nessuno sta succedendo e poi la seconda race è stato in mezzo e poi ho provato a toccare i top guys e arrivato a Johnny e poi è stata una buona combina con Johnny e finalmente è stata una buona place per me è stata una buona parte per me e fino alla prossima e non so cosa succederebbe e questo è quello che mi piace è stato molto felice Ok, grazie a tutti Karls Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.